Sicuramente dopo il pareggio che abbiamo fatto con il Palermo ci dà un po' più di serenità dopo le due sconfitte, però siamo pronti perché anche oggi abbiamo fatto una buona partita. Sicuramente è una partita molto difficile perché loro sono in buona forma, comunque andare a Bari non è mai semplice, però come sempre cerchiamo di fare il nostro gioco e secondo me abbiamo buone possibilità di fare un buon risultato. Secondo me dopo il pareggio che abbiamo fatto con il Palermo abbiamo capito magari alcune cose che ci hanno dato alcune certezze in più e quindi andremo con un piglio diverso a Bari. Dopo due sconfitte e il pareggio con il Palermo, il Pescara a Bari dovrà cercare assolutamente di non sbagliare? Quello sicuramente, noi andiamo in campo partita dopo partita sempre per vincere, poi ripeto, a volte per nostri errori non è successo questo e quindi già da domenica proveremo a andarci a prendere i tre punti. Tu speri chiaramente di giocare? Sì certo, lui dice sempre all'ultimo, diciamo ci tiene tra virgolette sempre ognuno pronto e io spero, ci mancano ancora due o tre allenamenti, quindi spero di fargli cambiare idea e di giocare.